Buon felice lunedì a tutti da Monica Sirelli della nostra rubrica. Abbiamo già fatto molti incontri, oggi è il quattordicesimo e se non li hai visti ti invito a rifare gli esercizi durante la giornata. Si tratta di tre minuti che ti dedichi alla tua energia quotidiana e al tuo cambiamento interiore per un cambiamento di azioni e di risultati. Oggi parliamo di come attrarre clienti. Oltre le azioni abituali che tu fai, per cui sei sicuramente ben consigliato e se non lo sei ti consiglio di trovare consulenti adeguati che ti aiutino, noi qui ci occupiamo dello stato interno, cioè dello stato emotivo interiore con cui noi attiriamo clienti. Partiamo subito con il nostro esercizio di FT. Anche se finora per me attrarre clienti è stato relativamente difficile e relativamente facile, cioè non mi sono arrivati con fluidità, naturalezza, ma in parte sono arrivati così e in parte sono stati più complicati. Ora io voglio che tutto sia più naturale sopra la testa e per farlo trasformo me stesso in una calamita per i clienti. Sono una calamita per i nuovi clienti. Centro dell'occhio. Sono una calamita per i clienti. Lato dell'occhio. Perché sono una calamita per i clienti nuovi? Sotto l'occhio. Perché quando vado agli appuntamenti riesco a coinvolgere così facilmente i clienti? Sotto il naso. Perché è così facile per me coinvolgere clienti nuovi? Sotto la bocca. Coinvolgo clienti nuovi con naturalezza e facilità. Cravicole. E mi sento a mio perfetto agio e mi diverto molto a cercare nuovi clienti, ad attirare nuovi clienti, a creare nuovi appuntamenti. Punto del timo. E mi diverto molto a fare anche appuntamenti a freddo su nuovi clienti. Mi tengo allenato. Ottengo risultati sempre più crescenti. Sempre sotto la scella. Ho sempre più clienti perché vado a cercare, vado incontro ai clienti. Sotto il seno. Ho sempre più clienti perché apro i miei canali e i nuovi clienti mi vedono. Divento più visibile. Divento più aperto. Divento più riconoscibile. Divento più approvato più riconosciuto. E mi sento sempre più sicuro in questo movimento in cui sento che sto lavorando molto bene. E quindi è giusto e naturale che io sia pieno di clienti. La mia eccellenza aumenta sempre di più. La mia qualità aumenta sempre di più. Ed è naturale che abbia molti più clienti. Punto delle dita. Ho sempre più clienti che pagano puntualmente, che arrivano a me da fonti aspettate e inaspettate. Tutti i clienti arrivano da ogni parte per la mia massima grazia e bene. Respiro. Anche questo a tenere fatto per tre minuti, tutti i giorni, tutta la settimana per attivare queste energie. Buona pratica per il cambiamento dentro di te che produrrà cambiamento fuori di te. Ciao, a presto.